Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Queltaleale, eccoci qui di nuovo con Eplugtail Requiem Torniamo con i nostri protagonisti che dopo una nottata piuttosto tribolata stanno andando verso Marsiglia Ultimo episodio, ultimo capitolo bellissimo Ultimissimi dal punto di vista visivo dell'atmosfera, la situazione è sempre più tragica Occhio che questo quando si addorme succede un macello Mi raccomando che come sempre lasciate like e condividete ragazzi per supportare questa serie seguita da pochi Perché però? Che dobbiamo fare? Ormai Però almeno supportate voi pochi che state seguendo Eh effettivamente non c'è tutti i torti eh 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 il piccolo Uguino è consapevole Eh là Il va te montrer comment tenir la barre Je vais lui demander de nous apprendre à faire des nœuds marins Et peut-être qu'il nous laissera naviguer? Oui Nous devons le mettre en lieu sûr Amicia Vous voulez l'enfermer à nouveau Ce n'est pas la même chose Tu as vu ce qui s'est passé? L'ordre a des hommes et du matériel Ils sauront comment l'aider Tout ça est arrivé à cause de ce que vous et Bodin avez fait à Hugo Mère, si vous continuez de l'isoler et de lui infliger ses tortures Ça va le tuer C'est un enfant C'est une victime comme toutes les autres C'est mon enfant Je ne suis pas ton ennemi Amicia Je sais à quel point tu aimes Hugo Et je sais que je ne peux pas vraiment comprendre le lien qui vous unit tous les deux Mais tu dois ouvrir les yeux Ce qui est arrivé là-bas se reproduira C'est vrai Vous ne pouvez pas comprendre Dors les débris Ils nous bloquent le passage Eh, le problème c'est que les débris sont des débris C'est un enfant C'est un enfant C'est un enfant C'est un enfant Ah, non C'est un enfant Je pense voir le problème On va le régler tous les deux D'accord, gamin Je vous laisse vous en charge Eh, tu peux retourner à l'intérieur si tu veux Non, tout va bien Je ne te laisserai pas tomber Je te l'ai dit Pour l'instant On doit faire avancer ce bateau Et c'est loin d'être fait Oui Vas-y Merci Ok, ok Allora La nostra scena Libera la barca Eeeh Vediamo un attimino Come Come poter fare Il y a un tas de débris Quoi aussi sur la coque On les retire Ça prendrait trop de temps Et si on le poussait simplement Eh bien On peut essayer Prêt ? Oui Insomma Alors Pousse Ah 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 Prevedibile Eh C'è altro Speriamo noi Di trovare una strada E soprattutto Che non ci inchiappetti Nessuno Perché insomma Eh C'ho detto Non avrei mai pensato C'è troppo tard Ma C'è T'il Hugo Dì che ça va tutto arranger Allora ce sarà il caso Come La question c'è Où Il faut qu'on la trouve E votre mère Ça mette gal E toi tu vas devoir choisir ton camp C'è 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 ma magistra Eh La magistra Ma Scusa Qua continuiamo A far morire Popolazioni Come se non ci fossero domani Ma andiamo a Marsiglia Ma non è che cambia La stessa cosa Eh Come si dice Marsiglia Se lo piglia Se arriviamo pure noi No Poste che dobbiamo fare il giro Dai che qua ci siamo incartati Pazzoli incoglionito Comunque è un problema Perché Huguino Sta Sta male E non credo che Si possa trovare Una soluzione immediata Che risolva il problema Pensavo peggio Arriviamo arriviamo Sto guardando il panorama Aia C'è da accendere del fuoco Quindi figurati Era una cava Immagino Questa È gallante Se ne salvi Mi sembra una parola grossa Però Sì sì Don't worry Che pure i ratti Ce la risolviamo In un modo o nell'altro Ormai siamo abituati A derattizzare le zone La manovella L'ho vista Ah si è spento Quel fuoco Interessante Alchimista L'ho vista Per pochi Questo è per pochi Allora Andiamo noi O devi fare tu Lucas Secondo me è Lucas Che deve fare Noi dobbiamo Meno che non si blocca Spero che si blocchi Non si blocchi Non si blocchi Allora Eh però Poi Il pieno non basta In che senso Ah per arrivare là Eh va bene Non ti preoccupa C'abbiamo Erbasetto Uno Ce n'abbiamo Oh Non ho capito Se è una questione Tempistica Luca Luca A toi De jouer Bien Ça fonctionne La faille Bouge Oui Ça pourrait Nous permettre De passer Tu abuses Trop Ce dont ils sont capables Ils ont détrui Une ville entière Et ça recommencera Si on continue D'ignorer Les émotions D'Hugo Oh La faille Ne subira Pas Veloce Allora Formidable Però quello è rimasto Appeso Formidable E Insomma Allora Qua Abbiamo Questo Che però Io potrei Accendere E poi Spostare No Forse Aspetta Proviamo Magari Spostando Così Riesco A far Arrivare Lui Qua Veloce Arrivugo Allora Tu entres En scène Lucas Tout de suite Ma Tu devrais Me dire Ce que tu as En tête A propos De quoi De cette île Je te connais Tu sais Je te l'ai Dis Tu dois Choisir Ton camp C'est fait Dis-moi Quand lâcher Aspetta Oh Bien Non 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 Lucas Qu'est-ce que je fais Attrape ça Trappe le sol avec Va jusqu'à l'escalier C'est quoi ça Vite Ça ne durera pas Arguez Arguez Il n'aime pas ça Ok Va bene Va bene Va bene Smetti Smetti Ok Aspetta Però Ma me l'ha attivata In qualche modo Sta cosa Sportiveggiante No Allora Aspetta Che devo far passare lui Quindi Un attimo Che vedo Se c'è qualche altra cassa Pare di no E Come sempre Devo Attivare Prima Perché se no Non facciamo in tempo Credo E' un cazzo L'attivo Oh Provo eh Ma non ne sono sicuro Possa funzionare Dai Non ce la farà mai Nella vita Oddio Che devo fare Ah mi serve a me Per arrivare qua Ok Il legnetto Dai dai Eh neanche di che li possa andare incontro Ok Ok Eh Allora Prima di tutto Facciamo così Poi Cosa Magari potevamo prendere pure prima noi però Eh no Stavo vedendo se effettivamente dovevo andare pure io però si Ok Ok Come credo Allora Vediamo se riusciamo a fare qualche miglioria Eh sempre uno me ne manca di sti cosi Porco due Eh niente No voglio fare prima Oddio aspetta L'ultimo Ah no mi servono due di attrezzi Vabbè a posto Ora il ceppetto Là ce l'avevamo Fammi vedere se qua c'è dell'altro Pare di Sì Ah 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 Ok Rottami Rottami Però pure qua me ne servono due E niente signori Io aspetto i video di Do la priorità A quelle altre cose Magari Non credo che dobbiamo andare qua Ah non si passa di là Eh siamo Aspetta perché ho visto che ci sta pure questo Ripacendo la La zona Vediamo prima di scendere Lì sotto Qualora dovessimo scendere Lì sotto A sto punto non credo Che dobbiamo andare là Probabilmente no Allora Vediamo anche se c'è dell'altro da Da recuperare Non si sa mai Qua non si può andare Quindi qua era giusto per Possibile Sembra strano Hmm Profitons de l'occasione Pour les appeler Ça pourrait réconforter Hugo Tu penses qu'ils nous entendront ? Eh bien tu peux crier assez fort Quand tu veux Ça dépend de ce qui essaye de me tuer Alors On y va ensemble ? Oui No, no, ok Dobbiamo riscendere e andare lì accendendo quello Ok, ok Strano che qua sopra c'era solo questo Magari mi sono perso qualcosa Tutto è possibile Allora, facciamo che Prendiamo il ceppetto Dovendo andare là Secondo me potevamo accendere pure là Immagino che dobbiamo andare là Allora, vediamo qui Di passare Hai visto? Stato un attimo Questo boss è rile Allora Arrivo Rimanere qua però E allora qua non posso passare Non pensavo Dovesse comunque rimanere qua lui Aspetta, questo ci può servire per Ho capito ma che Cioè non ho capito che volete fare Che cazzo deve fare? Non ho capito Ah, deve scendere là Che cazzo è? Fammi capire No Allora in pendenza quindi Vai tu Eh, ma scusa Non avevo mica visto il buco Sennò Eh sì, sicura Guarda un po' che sozzeria Eh, alla grande Eh, lui che blocca Ma posso passare Comunque là qua sotto Non lo so, eh Sto provando Ah sì, sì Comunque da qua Volevo passare Oh Pezza con una puzza De morte Vai, vai Tranquillo Don't worry Don't worry Là c'era una Cassa pure da quel lato Allora Qua stiamo carichi Eeeh Qua c'è quella cassa Un po' Un pochino Possiamo Lo possiamo fare Ok Ok Onesto Stiamo No, no Siamo freschi Come una rosa Allora Allora Poi andremo Poi andremo dall'altro lato Però nel mentre Stiamo qua Eeeh Posso andare prima A recuperare quella cassa No Ci sarà un modo Vediamo Qua in teoria Dovremmo trovare L'altro accrocchio Per il banco da lavoro Quindi dovremmo riuscire A migliorare Adesso La fionda O Vediamo Di solito si trova Il Eccolo là Quindi adesso Possiamo fare O la fionda Giugendo una seconda Toppa Oppure Senza dover Utilizzare Un banco da lavoro Eh ma che utilità C'ha Facciamo la fionda Eh perché Comunque la fionda È abbastanza lenta Da caricare Quindi Non so come Si arriva a quella Cassa In realtà Ma La facciamo Andar bene A sto punto Boh Tanto sicuramente Ci staranno Le munizioni Che non possiamo Comunque prendere Perché stiamo Fullati Quindi va bene Così Eh sì Qua abbiamo Tutto di tutto Questo Puro Questa Allora Allora Un giretto pure Qua dietro Qua si sale Eh Eh Reste concentré Ma Tira Il carrette Aspetta Che qua La manovra È problematica È da sola Ci vuole Un po' Un po' Un po' di Di forza Si poteva salire Anche a quello Di fronte Però vediamo Prima qua Cosa dobbiamo Fare Immagino Che quello Si poteva Scassare No Scusa Con quale utilità Sono venuto Qua Ponticello Non scende Non lo so Proviamo All'altro Vediamo Se ci è più utile Quest'altro Passaggio A sto punto Vai a me Sia Che ughetto Ci aspetta Fatica Cioè A parte che qua Lavoriamo solo noi Tra parentesi Allora Qua c'è quel Peso lì Che però Non so Se posso far cadere Pare di no Poi c'è un pertugio Attenzione Pertugio Per Secondo me Dobbiamo far scendere Tutti questi ponticelli Ma non so come Onestamente Di là Non si è capito Come si faceva Qua Boh Magari c'è qualche Accrocchio Da ste parti Qua scende Ok Qua niente Secondo me Ci stiamo a perdere Un sacco di cose Però non riesco a capire Non so cosa stiamo facendo Ma lo facciamo Ok Quindi se smettiamo Qua Quello si Però probabilmente Quanto tempo ci da Penso che dobbiamo Spostare il carretto Per portarcelo qua E per poter salire là Sti cazzi Però adesso Possiamo passare Almeno più facilmente qua Ok Adesso ci mettiamo Il carrettino No Eh Questa è una fase di Platforming Tra virgolette Di risoluzione Dei problemi Quindi Tutto verrà Arrivare dall'altro lato Potevamo arrampicarci Anche in modo Un po' più sportiveggiante Però Tanti social ci stavano Passavi in là È brutale Bruttabile È brutale Spigni, spigni. Ok, parliamo. Eppure questa è fatta con un po' di difficoltà. E con un po' di difficoltà dico tanta difficoltà. Aia. Ma pure qua ci stanno sti rompi coglioni. Dai che c'hai la balestra tu. Qui la manovelle e stir la precelle. Ok. 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 A buppo. Spero di sì perché. Scusate. Non avevo letto il legno. C'è scritto qua. Bello semplice. Tu puoi venire? Sì. Bravo. S'arrivo. Scusate. Botte non mi metto a leggere. Ci puoi provare a fare. Lascia fare. No. Ça c'est un très gros problème pour vous. Faut partir. Voilà donc la célèbre fille à la fronde. Je vois que tu as de la ressource quand il s'agit de tuer mes hommes. Partons. Vite. Aia. Vas-y. Essaie. Oh. Qu'est ce qui se passe? Oh oh. Ahia. Questa. Non gli altri. 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 Eh ci vuole qualcuno che. Occhio. Vai. Con three. Capto. Ok. Avrei un passaggio alla parta. Come cazzo lo faccio. Ok Dardy, è ignifer, ignifer, ah è vero vedi che c'è l'olietto Ma non la barba, ma là stava, mira come cazzo Vai vai, nel mentre copriamoci Diamo te, non è che cacciare Eh qua mi sa che potevamo fare esplodere pure tutto però Perché tanto non si pagano Troppo lontano? Si stanno cazzando insieme E questo gioco è una colonna sonora spaventosamente bella Aia Aia E' veni dentro, siamo fottuti Ma le frecce ce le abbiamo a buffo? No, 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 ho sbagliato, sbagliato, sbagliato Ah no, aspetta Una fangulo Vai vai Non lo mira lui? No Ah ho finito le frecce Annaggia la troia Ma cazzo lo faccio Eh dobbiamo avanzare Scusa eh Però allo stesso tempo io posso comunque Scusa eh Se lo vio no Non ho toglito la pece che qua fa buona botta Le frecce sono finite però Ma non mi ha piaciuto Come cazzo fai a dire che è? Aspetta un attimo Le frecce niente più? Non so che devo andare a fare altro Ma Eh le frecce non le ho beccate Eeeh Vabbè siamo fottuti ok Era prevedibile Vabbè non dovrebbe essere così veloce quello eh Dai Fai il tornante Dai che lucco non ci passa Damosi Arrête de trembler Ne le laisse pas approcher Recule Tu peux encore y arriver Le bateau Oui Tu as mis l'amuse Le bateau Non Non Aller au diap Alors quoi Je croyais que tu voulais mourir C'est ça Arrête les dozins Ca me ressemble bien Je ne l'aurai quand même T'es en sécurité Qua dove sto andando No Salopard Allora Ojo Perché qua Eh ma se tu non le va a quelli Se non dove vado Eh quello là rimane mi sa eh Dove per forza fare Ah no Si è così Su cristo Eh almeno per rintronarlo Poi quello Così Questi cazzo Eh per forza Via 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 Aia Allora Eh a mais si ando cazzo Va Questo ti rompe il culo Arrivano si rinforzi E ci siamo riuniti quindi Huguino e noi E la mamma mi sa che Se ne vanno a largo Ah però Amicia È la sua occasione per aiutarlo A modo suo A modo loro Lei in realtà cerca di seguire Quello che dice Huguino Perché vuole cercare magari Di accontentarlo Comunque cercare di fare Il suo meglio Visto che comunque Anche tutti gli altri Che l'hanno aiutato L'ordine e quant'altro Non è che sembravano Molto affidabili Effettivamente però Ci sta signori Ci sta Allora Mi raccomando Fatemi sapere la vostra Lasciate like e condividete Per supportare serie e canale Noi ci vediamo Al prossimo appuntamento Con Eplugdale Un saluto a tutti Da Gueltaleale Eplugdale